Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, come vedete sono in un posto diverso con un ospite speciale, lei è Giulia Mapelli dovete assolutamente andare a vedere il suo canale, vi lascio il link qui sotto in descrizione ma dovete assolutamente andare a vedere un altro video che abbiamo girato insieme, cioè ci scambiamo le trusse di trucco quindi io mi sono truccata con i trucchi di Giulia e Giulia si è truccata con i miei trucchi e se volete vedere che cosa è uscito qua, andate a vederlo per forza ve lo lascio cliccabile qui, ora il punto è che io sono a Milano perché dobbiamo andare al party di Deborah mi hanno invitato, ci hanno invitato, andremo stasera al party di Deborah e dovremo uscire di casa tra mezz'ora abbiamo fatto tardissimo girando l'altro video e non ci siamo resi conto, quindi iniziamo subito a truccarci senza perdere tempo anche perché vi abbiamo chiesto di farci delle domande su Instagram e nel frattempo speriamo di riuscire a rispondere a qualche domanda questa sarà una challenge, 20 minuti per truccarci esatto, ok iniziamo iniziamo tra l'altro mi è venuto un occhio rossissimo oddio col che mi sono struccata, ci dobbiamo ritruccare, aiuto ok dai ce la faccio qua io ho un mini campioncino del Porefessional quello io lo amo e visto che tipo Giulia porta di poche cose di trucco, tanto ce le ho io posso rubarti un po' di Porefessional? vai vai vai, prendi prendi io te lo dico, lasciamo tutto così com'è si assolutamente lancia quello che è, fa niente, poi domani ci sistemiamo tra l'altro ragazzi è uscito anche il vlog sul canale dei vlog di queste due giornate in cui staremo insieme io e Giulia quindi se volete vedere come è andata a finire l'evento di Deborah se siamo riuscite a truccarci in tempo soprattutto se siamo andate in metà e in metà e se volete vedere anche la giornata di domani perché Giulia vi porterà a Tarese c'è Primark ragazzi sto morendo andiamo a fare i check sì non vedo l'ora dovete assolutamente guardare quel video che vi lascio qui come al solito ok ce la possiamo fare io come fondotinta uso il Wet n Wild Photo Focus sperando di coprire questi brufoli e ok la metà di questo fondotinta sarà sulla mia maglietta non fa niente tanto dopo te la cambi esatto e tra le altre cose non so ancora che cosa mettermi e questo mi sta interessando ancora di più io sto usando il fondotinta di Revlon che in realtà è il color same per pelli miste e grasse ma è pazzesco è bellissimo questo fondotinta lo devi provare perché asciuga ma non secca devo provarlo assolutamente sì maledetto quest'occhio che sta diventando sempre più rosso porca miseria ragazzi guarda oh ca... si vede che mi è andato qualcosa dentro mentre mi struccavo no sai che cosa dobbiamo fare? che cosa? un trucco semplice ma figo perché è l'unico modo cioè non possiamo metterci a fare che ne so lo smoky eyes capito? non c'è tempo bene esatto ah mi sono ficcata è venuta nell'occhio non c'è bello nell'altro video l'ho fatto io perché già la base mi sta facendo schifo non ci siamo sai come schifo? perché ti sta facendo schifo? non lo so non mi sta andando su a macchia non c'è tempo non c'è tempo ma gli estremi estremi rimedi non c'è tempo avrò tipo una cake face ma non mi importa dovrei anche leggere le domande che ci hanno fatto aspetta ora vediamo se riusciamo a rispondere allora Dora Vecchio dice avete mai pensato di chiudere il canale? cosa vi piace di più? e cosa detestate della beauty community italiana? wow è una bellissima domanda è una potenza al punto avete mai pensato di chiudere il canale? delle volte sì ragazzi perché è molto difficile farsi strada appunto nella community italiana beauty e io non vi nego che delle volte ho detto basta adesso mollo tutto non so se io no ma per il semplice fatto che io lo faccio da meno tempo di te penso e quindi non ho ancora avuto il tempo di stancarmi o di sentirmi così tanto stressata di dire ok mollo tutto all'inizio forse un po' perché ci tenevo tanto a riuscire e non sapevo come muovermi non sapevo che cosa fare cosa dire cosa non dire perché poi è fondamentale anche sapere che cosa non dire secondo me sì della community io sinceramente penso una cosa molto semplice che dandosi una mano nella vita in generale penso io si ottiene molto di più piuttosto che cercando di buttare gli altri giù esatto secondo me si ottiene molto di più secondo me il problema della community è che questo viene visto cioè proprio come lavoro viene visto più come una gara che è una community troppo chiusa cioè chi diciamo è riuscito cioè è difficile ci tiene a rimanere così c'è un una cerchia esatto in cui è impossibile entrare cioè è un una specie di non lo so è come se fosse tutto chiuso tutto bloccato tutto io penso che magari se uno inizia a partecipare a eventi del genere magari inizia a conoscere anche qualcuno ad entrare nel gruppo io lo spero io lo spero perché magari è una prossima di non essersi mai vissi di persona cioè alla fine è difficile conoscere persone su internet senza passare per quello che è lì a cercare gli iscritti insomma esatto che poi è una cosa che non capisco perché se uno è bravo non penso abbia bisogno di andare a cercare gli iscritti cioè nel senso quello che stiamo dicendo noi è che alcune volte ci sono delle persone ma neanche così tanto affermate magari sì che sono più avanti di noi ma non così tanto che neanche ti rispondono quando gli iscrivi esatto questo stiamo dicendo e non lo so perché ti vedono come una specie di concorrente invece secondo me se uno collabora fa amicizia comunque crea diciamo una cerchia aperta è strano da dire però questo è vorrei fare un esempio ma provate a immaginare se le vostre youtuber preferite che non non lo so due youtuber che non si sono mai viste mai incontrate se facessero di video in collaborazione intanto voi sareste molto più contenti secondo me perché vedete le vostre due youtuber preferite insieme che non sto parlando di noi necessariamente ma di chiunque non voglio che passi per lo messaggio sbagliato non solo voi le vedete insieme e quindi sto girando le cose per terra nel frattempo è una cosa secondo me bella per il pubblico ma è anche un modo per queste due persone di farsi notare di più diciamo no? perché comunque non è che cioè non è detto che i miei iscritti siano gli stessi iscritti suoi anche se lei ha più iscritti di me non significa che i miei siano gli stessi suoi quindi ci sono persone che non conoscono lei ma che magari conoscono me e quindi diventa un vantaggio per tutti esatto cioè collaborandosi ha comunque la possibilità anche di aiutarsi a crescere a vicenda e comunque anche per le persone che guardano di scoprire nuovi canali perché cioè io penso che io e te ma tanti altri youtubers sono anche persone che guardano video di youtube e delle volte io scopro dei canali dei nuovi canali semplicemente perché vedo delle collaborazioni magari di persone che seguo con altre e a quel punto poi vado a vedere il canale della persona che non conoscevo e scopro delle persone dei canali interessantissimi a mio parere allora aria punto poi io ve lo sto dicendo mentre metto la terra sul collo aria allora dov'è il mio blush? lì l'ho messo lì ok allora aria.marelli underscore 02 scrive ciao volevo chiedervi quando e come vi siete conosciuti conosciute adoro i vostri video grazie tesoro che tesoro ci siamo conosciuti perché Giulia mi ha scritto su instagram abbiamo iniziato a chiacchierare e ci siamo resi conto che avevamo un sacco di cose in comune pausa abbiamo iniziato a chiacchierare perché lei mi ha risposto quindi tornando al discorso è importante anche rispondere ogni tanto direi questo già solo il fatto che mi abbia risposto perché ai tempi io credo di essere stata chi poi credo che instagram l'avevi già l'avevi aperto da pochissimo se non si parla avevo forse 3000 iscritti su youtube si credo credo qualcosa del genere che tra l'altro penso sia passato circa un anno forse mazza è già passato così tanto tempo davvero e alla fine ci siamo accorte che avevamo un sacco di cose in comune a partire dal fatto che ci chiamiamo entrambe Giulia esatto che siamo nate a quanti giorni di distanza a sette giorni di distanza io sono del 22 aprile vieni più qui che stai fuori dall'inquadratura io sono nata il 22 aprile e lei il 29 e poi vabbè insomma anche altre cose mi sto stressando tu ti stai stressando io ho l'occhio viola ok ma che cosa hai usato questo truccante che uso sempre allora sopracciglia non panico oddio le sopracciglia no ti prego che ore sono non lo so ci metto circa 5 minuti a fare le sopracciglia oh mio dio ok abbiamo un quarto d'ora no non è vero abbiamo meno di un quarto d'ora perché dobbiamo ancora vestirci truccarci no truccarci no dobbiamo vestirci io non mi metterò le leane non posso farcela no come faccio sono stressata così o come faccio due giorni penso di non avere avuto le sopracciglia così da anni siamo in due cioè io non ho non ho mai sono le 5 e 20 Giulia abbiamo dieci minuti dieci minuti dobbiamo farne un buon uso io ti dico solo che oh dio Giulia che hai fatto? c'era sopra il bronzer stai scherzando? guarda non si vede non si vede ok passaci sopra passa tutto sopra una ragazza ci chiede a quale cibo non potreste mai rinunciare alla pizza oddio pasta anche io amo la pasta pasta pizza dolci non va bene no io sono più da salato sì? io do un sacco di più io faccio proprio sfumatura leggerissima eyeliner e ciglia finte e basta eyeliner sì sei matta no però devo metterlo anche io per forza perché sennò le ciglia sempre diventano un casino beh sono più veloci da mettere o al massimo non le metti le ciglia sei matta ragazzi se non è una challenge questa io non so veramente infatti doveva essere l'altra la challenge non ho capito perché non so come siamo finite così ci sono scambiati i ruoli in questo momento mi viene in mente Daisy Perkins che si prepara con la Stralax sì per un evento e tipo hanno filmato per circa tre ore davvero sì tanto che si sono fatte portare il cibo da asforto le mariti come noi 10 minuti e devi essere pronta tanto adesso mettiamo le ciglia fitte e copriamo tutto perché qua è una tragedia ragazzi ma che grande tragedia mi salva il correttore sono in mezzo oddio no 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 calma ti giuro non ho mai avuto delle sopracciglia così brutte in tutta la mia vita no Giulia la stasera non ci presentiamo con nessuno va bene io mi sto presentando sul tuo canale con le tue iscritte con ciata così quindi ragazzi è tardissimo è tardissimissimissimo tipo penso di aver filmato metà altro video qui e il blush sai ragazzi almeno non è un solito get ready with us così esatto così noioso è un po' diverso dal solito noi l'abbiamo fatto mica per noi per non farvi annoiare esatto è una challenge no perché volevamo filmare inizialmente il ci tocchiamo in 10 minuti ma abbiamo deciso di fare una cosa a metà e metà e è finita così ti dirò che però non è fatto anch'io ho fatto mi serve il care bravo gen ragazzi noi andiamo di corsissima speriamo che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia e ricordatevi di andare a cercare il canale di Giulia e di iscrivervi e ricordatevi di andare a vedere il vlog che vi lascio no già ve l'ho lasciato prima non me lo fa rimettere vi lascio anche il vlog sotto nell'info box così magari vedrete che cosa abbiamo combinato se siamo riuscite ad arrivare in orario o che cosa succederà speriamo di sì speriamo di sì incrociate le dita per noi vi mandiamo un grandissimo bacio ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ciao ciao